I pittori, quasi tutti, hanno almeno un autoritratto in repertorio. Prendiamone 39 e confrontiamoli con le immagini fotografiche dei loro autori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.